oggi per girare questo nuovo episodio di un caffè con georgia ho disdetto tutti i miei impegni e sono corsa da luca argentero grazie grazie a te per aver trovato il tempo per noi e il tempo è proprio un tema fondamentale di cui vorrei parlare oggi sei un'esperta di orologi quindi il tempo è il tuo pane esatto assolutamente sì è un po anche il tuo perché io ho letto il tuo libro e diciamo che questo concetto del tempo che passa è un po una cosa che ti accomuna con fabio il protagonista del tuo libro il tempo è diventato crescendo un po una una piccola ossessione forse vedendolo passare sia sia su di me perché faccio un mestiere in cui offro la mia immagine quindi i copioni che mi offrono cambiano assieme alla mia età ma dici per i capelli bianchi cambiano perché uno perché uno cresce quindi passi da fare il figlio a fare il genitore da fare lo studente a fare il professore cambia il punto di vista che gli addetti ai lavori i registi hanno su di te e in più adesso lo vedo passare anche sui miei figli quindi lo vedo passare ancora più in fretta come se avessi l'urgenza di utilizzarlo di utilizzarlo nel modo giusto quindi cerco di di non sprecarlo questa è la mia nuova mia nuova ossessione ma sai che sono pienamente d'accordo con te anch'io avendo due bimbi piccoli proprio come te maschio e femmina ho questa sensazione del tempo che mi frega ogni tanto che io dico vorrei stare di più con loro ma magari quando sono con loro dico mi sono dimenticata di fare quella cosa di lavoro e la testa da un'altra parte quindi poi il tempo di qualità è davvero raro comunque da tempo a segnatempo è un attimo a me è già caduto l'occhio sul suo orologio che conosco bene perché adoro è un pezzo molto particolare Gerald Charles ha un design inconfondibile è un pezzo forse uno dei pezzi più particolari della mia della mia piccola collezione sono molto affezionato ed è un po' inconfondibile il suo pregio che inconfondibile non è assolutamente si riconosce si riconosce da lontano e come tutti gli orologi che posseggo perché non è insomma prima della fine dell'intervista mi dici quanti ne hai no non so se è una questione di numero ma la cosa che me li fa piacere tendenzialmente quando riescono a essere sportivi ed eleganti allo stesso tempo cioè stanno bene sotto un abito e stanno bene in un momento più più informale sono d'accordo mi piacciono quelli è un metro di ricerca importante secondo me anche io tendo a sceglierli così perché poi mi piace indossarli secondo me perché ormai tanti tanti collezionisti invece comprano solo un po per l'investimento un po un po perché pericoloso indossarli oggi purtroppo se oggi purtroppo se comunque tornando all'orologio che ha il polso a me piace tantissimo un tratto distintivo di gerold charske questo bracciale in cauccio con clou de paris che è bellissimo e oltretutto non è stato un lavoro da poco mettere questo movimento scheletrato su una cassa con questa forma hanno fatto un bel lavoretto i ragazzi io ammetto di essere molto poco tecnico è una passione recente per me quella degli orologi nel senso che non è da molto tempo che mi possa permettere di comprare degli orologi e quindi è un è un indivenire e quindi sto imparando qualche cosina in più so pochi termini tecnici mi baso su quello che mi emoziona credo che è lo stesso discorso che ogni tanto mi capita di fare con l'arte o con altre piccole manie di collezionismo è la cosa che ti crea una un'emozione è quella giusta e poi c'è sempre tempo per imparare oltretutto a te piace leggere noi facciamo dei libri che sono molto importanti a livello istruzione sul tema orologi quindi quando vuoi sai dove trovarmi e io anche ho messo oggi un orologio con il bracciale che la rolex non ama definire in caucciù loro lo definiscono oyster flex ci tengono molto è uno yacht master che appunto come dicevi tu è un orologio sportivo che però con questo oro rosa lo puoi comodamente portare anche con un abito elegante sia da uomo sia da donna questo lo indossa anche mio marito in tutte le occasioni e credo che stia bene a tutti e due questo per la tua collezione quanti hai tu ancora troppo poco però poco a poco cresce ed è bello perché questo questo lavoro mi consente di scoprire pezzi che non avrei mai pensato di avere tra le mie mani quindi belle scoperte sempre più grosse di bene e tu senti tornando al tema orologio per te è una passione o anche un investimento magari dici beh io qualche soldino piuttosto che lasciarlo magari fermo in banca preferisco avere un oggetto che potrebbe prendere valore per adesso l'ho vissuto solo proprio come un regalo un regalo che mi faccio non ho pensato alle messe so che non sono soldi buttati però come mi piace ogni tanto regalare un gioiello alla mia moglie è l'unico vero gioiello da uomo quindi di conseguenza mi piace averne averne qualcuno mia moglie me ne ha regalati di bellissimi per le grandi grandi occasioni ero fermo all'orologio dei dei vent'anni regalato da mamma e papà c'è adesso l'orologio che mi ha regalato mia moglie per il matrimonio sono dei dei simboli quindi non riesco a immaginare che un giorno di quella cosa ti possa privare una cosa che spero che vada mio figlio c'è un ricordo emotivo legato a quasi tutte le cose che ho perché non ne ho tantissimi quindi sono sono più degli oggetti che rappresentano anche una memoria ma la storia dietro all'orologio la cosa più bella secondo me più emozionale ma possiamo saperlo questo orologio che ti ha regalato per il matrimonio creme ha regalato un gmt bellissimo con la ghiera colorata pepsi bracciale giubilè e oyster giubilè che è un bellissimo oggetto ed è inciso quindi per rispondere per tornare alla tua domanda per me non esiste il concetto di investimento per quella è una cosa che spero rimanga per sempre nella nostra famiglia e poi mai dire mai anche io ho regalato per mio marito per il matrimonio un Rolex un Daytona si chiama patrizi dial perché ha i contatori un po virati al marrone e ho personalizzato il fondello con un incisione del logo del nostro matrimonio e lui mi dice sempre hai rovinato l'orologio però è vero però dall'altra parte secondo me è quello è il suo il suo valore se è legato a un qualcosa di emotivo è ancora più diventa ancora più prezioso certo ce l'abbiamo nel cuore comunque luca volevo farti notare che nel caffè con Giorgia non ci siamo presi il caffè neanche un caffè vabbè aspettiamo la pizza ti inviterò io la prossima volta a Torino presso la sede di un caffè perché la mia associazione si chiama un caffè poi la prossima volta te la racconterò meglio lì ci prenderemo un vero caffè fantastico lo prendo come cosa certa senti io prima di farti l'ultima domanda per ringraziarti del tuo tempo ti ho portato un presente grazie un articolo made in italy a cui tengo spero che ti possa piacere scatole contro scatole per rendertela più lunga possibile bellissima grazie in tutte le occasioni grazie allora è proprio arrivato il momento dell'ultima domanda se potessi tornare indietro nel tempo dove andresti io sono tremendamente ancorato al presente quindi in realtà vivo il momento e l'attimo però visto che uno dei miei film preferiti si chiama ritorno al futuro e anche lì c'è un doc che per comunicare insomma a marty dice dobbiamo tornare indietro indietro nel futuro quindi se dovessi tornare indietro nel tempo lo utilizzerei per andare invece nel futuro a dare un occhio a dare un'occhiata con me non male grazie luca un'occhiata con me non male grazie a tutti un'occhiata con me non male grazie a tutti